Back in ETV Bentornati su Balconi TV Sassar Io sono Laura e con noi oggi Mario Ciao Mario Ciao a tutti Cosa ci fai sentire? Vi faccio sentire i signori di questa città che è il mio ultimo brano Benissimo, enjoy the show! Siamo parti di questa città Troppo sicuri della nostra vita Credimi questa non è libertà C'è chi decide per l'aria pulita E fan tutto anche se non lo vuoi Tanto tu problemi non ne hai Ti lasciano soffrire a lungo e poi Con il dolore solo impazzirai Loro ti sfruttano, loro disprezzano Quello che fai senza capire che ti umiliano Loro sorridono, loro gioiscono Di ciò che è tolto ad ogni uomo che colpiscono Sono i signori di questa città Padroni della nostra vita Loro decidono come si fa Sono padroni di questa realtà Ti fanno vivere sempre in salita Moltiplicando le difficoltà Fanno così che non sia mai finita Nascondendosi dietro di noi Minacciano valori che tu hai Anche se non importa Tanto poi un ghigno faccia loro e riderai Loro ti sfruttano, loro disprezzano Quello che fai senza capire che ti umiliano Loro sorridono, loro gioiscono Di ciò che è tolto ad ogni uomo che colpiscono Sono i signori di questa città Padroni della nostra vita Loro decidono come si fa Devi capire quanto peso avrà Il tuo futuro tra le dita E forse un giorno tutto cambierà E forse un giorno tutto cambierà E forse un giorno tutto cambierà Sono i signori di questa città Padroni della nostra vita Loro decidono come si fa Devi capire quanto peso avrà Il tuo futuro tra le dita E forse un giorno tutto cambierà Noi Oh no Oh no 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 E voilà Eccoci Ciao 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 Allora Mario ci vuoi presentare i ragazzi? Allora alla chitarra c'è Gianvito Carbini Qui alle percussioni c'è Antonio Leone Ok benvenuti Grazie per la performance Parliamo di questo brano Raccontaci un po' Com'è nato Allora signori di questa città E' un brano un po' complicato è nato in un momento difficile nella mia vita, è nato quando ho perso il lavoro e ho iniziato a cercare di capire, insomma ho ragionato un pochino su quelli che erano i poteri i poteri in gioco, potere lavorativo, potere politico, potere economico e insomma ci sono persone che decidono troppo spesso e volentieri per gli altri e decidono per i propri interessi e mai per noi e nel brano dico insomma che quello che è il nostro futuro dipende solo esclusivamente da noi e bisogna prenderlo tra le mani e cercare di raggiungere i propri obiettivi, i propri scopi nella vita Amen, parole sante Bene, senti, hai in vista un nuovo lavoro, un nuovo progetto? Allora sì, Signore di questa città fa parte di un progetto che sto realizzando di un disco di un nuovo disco che uscirà per il 2016 lo sto preparando con Nicolo Fragile che è il produttore di All'Orizzonte per X Factor e insomma ci siamo trovati benissimo, abbiamo fatto una collaborazione lui è una persona fantastica e stanno venendo fuori dei bellissimi lavori è veramente un bel prodotto, mi auguro che piaccia, incrocio di te che piace anche a voi Sì, sicuramente, lo aspettiamo allora con ansia questo nuovo album dove possiamo andare a informarci su di te, appunto a tenere d'occhio la situazione? Allora, per essere informatista di me, insomma c'è la mia pagina Facebook c'è il mio profilo Facebook che si chiama Mario Garruccio, tutto quanto il mio profilo Instagram che si chiama Mario Garruccio il mio canale YouTube che si chiama Mario Garruccio insomma un pochino, si chiama tutto Mario Garruccio così è più facile trovarmi e sono là ci saranno delle nuove notizie e a breve usciranno anche degli altri video abbiamo preparato 11 cover con Niccolò in studio e abbiamo fatto dei piccoli video e piano piano verranno fuori anche quelli in modo da poter far assaggiare a tutti quanti un qualcosa di nuovo ogni tanto Ottimo, mi sembra un grandissimo lavoro, un grandissimo progetto e assolutamente terremo d'occhio appunto i social e tutte le tue pagine Mario Garruccio, ricordiamo Volevo dire anche che è possibile acquistare il brano su iTunes perché è in vendita su iTunes, su Amazon, su tutti quanti quelli che sono i canali di vendita attuali Benissimo, io vi ringrazio ancora per essere stati qua con noi grazie Mario, in bocca al lupo per tutto aspettiamo le novità per oggi è tutto, la Balconi TV Sassi io sono Laura, di nuovo Mario Grazie mille, ciao a tutti e ancora oggi è un'edita con voi Grazie mille, ciao a tutti